le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 2 maestro ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico geppetto il quale lo prende per fabbricarsi un burattino maraviglioso che sappia ballare tirar di scherma e fare i salti mortali in quel punto fu bussato alla porta passate pure disse il falegname senza avere la forza di rizzarsi in piedi allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo il quale aveva nome geppetto ma i ragazzi del vicinato quando lo volevano far montare su tutte le furie lo chiamavano col soprannome di polendina a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla polendina di gran turco geppetto era bizzosissimo guai a chiamarlo polendina diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo buongiorno mastro antonio disse geppetto che cosa fate o sti per terra il segno labale for vicole ah buon provi faccia o chi vi ha portato da me compagio e petto e le gambe sappiate mastro antonio che son venuto da voi per chiedervi un favore eccomi qui pronto a servirvi replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi stamani mi è piovuta nel cervello un'idea oh se diavola ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno ma un burattino maraviglioso eh che sappia ballare tirar di scherma e fare i salti mortali con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchier di vino eh che ve ne pare bravo polendina gridò la solita vocina che non si capiva da dove uscisse a sentirsi chiamar polendina comparge petto diventò rosso come un peperone dalla pizza e voltandosi verso il falegname gli disse in bestialito perché mi offendete e chi vi offende mi avete detto polendina non sono stato io eh sta un po' a vedere sono stato io io dico che siete stato voi no sì no sì e riscaldandosi sempre più vennero dalle parole ai fatti e acciuffatisi fra di loro si graffiarono si morsero e si sbertucciarono finito il combattimento mastro antonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di geppetto e geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname rendimi la mia parrucca gridò mastro antonio e tu rendimi la mia e rifacciamo la pace i due vecchietti dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita dunque coppa il geppetto disse il falegname in segno di pace fatta qual è il piacere che volete a me vorrei un po di legno per fabbriare il mio burattino e me lo date mastro antonio tutto contento andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure ma quando fu lì per consegnarlo all'amico il pezzo di legno dette uno scossone e sgusciandogli violentemente dalle mani andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero geppetto ah gli è con questo bel garbo mastro antonio e voi regalate la vostra roba ma avete quasi azzoppito vi giuro che non sono stato io e allora sarò stato io la colpa è tutta di sto legno lo so che è del legno ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe io non ve l'ho tirato bugiardo geppetto m'offendete e se no vi chiamo polendina asino polendina somaro polendina brutto scimmiotto polendina a sentirsi chiamar polendina per la terza volta geppetto perse il lume degli occhi s'avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco e una sporta a battaglia finita mastro antonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbetto pareggiati in questo modo i loro conti si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita intanto geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e ringraziato mastro antonio se ne tornò zuppicando a casa sua